lisa ama l'ordine alfa org fuori dalla finestra vedo la bestia scura che sorge a oriente incalza da vicino il sole e presto lo eclisserà l'anomalia è visibile anche di notte quando miliardi di stelle morenti illuminano le tenebre ma non quell'impossibile sole nero nessuno sa da dove venga o come si sia formato il meteo azzarda una previsione pare che questa mattina la bestia sarà più grande del solito io so già perché oggi è un giorno speciale è trascorso un anno esatto da quando sono arrivato vorrei pensare ad altro ma la memoria si spalanca e i ricordi affollano la mia mente mi chiamo zalun vengo dalla cina mia moglie elisa da lake vanaca nuova zelanda ci siamo conosciuti a firenze quando studiavo all'accademia di belle arti e lei campava con le lezioni d'inglese passione amore poi il matrimonio da allora sono trascorsi 20 lunghi anni durante i quali ci sarà stato qualche litigio ma non ci siamo mai separati almeno non nel senso tradizionale del termine lavoro amici niente figli avevamo preso casa appena fuori servia vivevamo la nostra semplice routine con serenità poi un anno fa come oggi quando tornai a casa dal lavoro lisa non c'era più al suo posto un maledetto bigliettino leggere quel messaggio è stato il secondo errore più grave della mia vita il primo lo commesi il giorno del mio diciottesimo compleanno quando firmai un coupon regalo e lo rispedì al mittente all'epoca lo facevamo in tanti era l'ultima moda perché l'idea di poter ospitare viaggiatori del tempo ti sembrava molto figa c'era quell'azienda con sede alle maulizius la fantomatica time travel entreatment inc che prometteva di conservare la liberatoria durante i secoli futuri fino a quando fosse stata inventata la macchina del tempo come al solito sto divagando sembrava che lisa mi avesse lasciato un messaggio apposta per ricordarmelo su quel suo ultimo bigliettino recitava una sorta di manifesto esistenziale amo l'ordine amo essere amata amo fare tardi la notte e alzarmi presto e fare colazione con la musica heart house nelle orecchie amo la lingerie la seta e il dildo amo lasciare i tuoi problemi fuori dalla porta amo il muffin al cioccolato amo chattare stronzate amo te e tu sai dove sono lo sapevo infatti da troppo tempo circolavano dei pettegolezzi su noi due alla fine lisa era riuscita a scoprire la verità che le avevo nascosto per tutta la vita ed era corsa incontro al suo destino mentre svuotavo la cassaforte di casa e riempivo del suo contenuto le tasche del giubbotto continuavo a ripetermi che non era finita c'era ancora tempo presto l'avrei raggiunta e sistemato tutto la storia poteva essere cambiata corsi in garage saltai sulla moto e via sfrecciavo su strade di mare guidando come un pazzo per raggiungere il più in fretta possibile il negozio di landi da giovane il signor landi era stato un adone uno di quei modelli da copertina che si era fatto strada con le sfilate e le marchette fino a quando aveva acquistato un sexy shop a milano marittima adesso landi era un vecchio dibosciato che si faceva chiamare nu shaker e trascorreva il tempo ricevendo amici all'interno del suo negozio lo trovai che ozziava su una sedia ad ondolo dietro il bancone del locale nila e le sai sei arrivato per salutarmi nu shaker aveva usato una delle espressioni cinesi che gli avevo insegnato durante le nostre frequentazioni grazie non mi tratterò a lungo risposi deciso vado da lisa il vecchio sapeva a cosa mi riferivo i suoi occhi acquosi languivano di sincera delusione mentre scrutavano i miei non tornerà più commentò tetro e tu neppure la mia risposta fu la conica sono pronto voglio andare fringevo d'impazienza ma nu shaker non aveva fretta si accese una sigaretta lamenta e per lunghi istanti non disse nulla inalava espirava fumo turchino e osservava i suoi giocattoli sparpagliati sugli scaffali polverosi inalava espirava veleno e se ne stava lì imperturbabile ad ascoltare il silenzio il tempo passava e nu shaker sembrava essersi dimenticato di me ogni uomo è libero di scegliere la sua pazzia rispose infine parafrasando il moto della tte la buona vecchia time travel entreatment rivivi il passato scegli il tuo futuro senza alzarsi nu shaker indicò una porta metallica che dava accesso al retro del negozio sopra il battente era affisso un cartello inequivocabile vuoi provarci ancora con la tua vecchia fiamma qui abbiamo tutto quello che ti occorre sai già come funziona mi chiese scossi la testa in segno di diniego la realtà virtuale aveva avverato le predizioni della tte molto prima del previsto viaggiare nel tempo era diventata una pratica consolidata ma io avevo stracciato il vecchio contratto e mi ero accontentato di navigare su internet lasciando ad altri il piacere di scoprire le meraviglie dell'invenzione che aveva cambiato il mondo allora prima devi leggere il decalogo e poi firmare qua grugni nu shaker mentre mi sporgeva dai fogli stampati scoprì che esistevano regole rigide e precise nessuno poteva visitare il futuro nessuno poteva viaggiare prima della data di fondazione della tte si poteva interagire soltanto con chi aveva dichiarato la propria disponibilità in forma scritta alla fine però il tempo era ancora denaro il prezzo del viaggio era stato fissato in un euro per ogni minuto trascorso nel passato a parte questo laggiù si poteva fare qualunque cosa purché fosse legale non shaker lo sapeva bene perché in italia era stato un pioniere del turismo sessuale temporale un servizio accessorio che offriva come facevano i cartolai con le fotocopie che succede se infrango le regole dipende il viaggio nel tempo non è soltanto un'evoluzione della realtà virtuale alcune azioni si ripercuotono nel nostro futuro laggiù potresti diventare un criminale miliardario senza che ci sia alcuna conseguenza in questa realtà ma se uccidi il futuro presidente o fotti la persona sbagliata creeresti un paradosso che potrebbe forzare il collasso di quell'universo nella bestia mentre no shaker enunciava il suo repertorio di frasi fatte pensai all'anomalia che appariva negli universi paradosso la bestia era il vero misuratore dell'entropia di un sistema più gravi erano i paradossi generati nel passato e maggiore era la probabilità che la bestia si manifestasse nessuno in quell'epoca l'aveva ancora vista dicevano che quello era l'universo originale e che quindi era esatto per definizione chissà se dio sarebbe stato d'accordo adesso inserisco le coordinate di lisa nel navigatore disse il vecchio intanto entra in quella stanza e chiudi la porta dietro di te si accenderà la luce rossa di un semaforo quando diventerà verde potrai aprire la porta e sarai arrivato prima di continuare tirò una boccata di sigaretta e mi osservò di sottecchi soppesandomi con gli occhi dammi retta vada lei e non pensare ai soldi offro io il viaggio ricordo che cercai di abbracciarlo in segno di gratitudine ma lui mi respinse addio figuolo fu l'ultimo freddo saluto di nu shaker prima però prendi una scatola di preservativi droni sono i preferiti di lisa laggiù non ne fanno di quella roba aspettai nel retrobottega e quando riapri la porta mi trovai in un luogo familiare alle pareti c'erano i poster di quando frequentavo la crew dei mutoidi e lisa fotteva con un me stesso più giovane ricordo perfettamente quella scena perché l'ho vissuta due volte la prima volta accadde il giorno dopo il mio diciottesimo compleanno non mi era sembrato vero e aver rimorchiato quella signora così più grande di me voleva fare ingelosire suo marito io non avevo capito a chi o a cosa si riferisse a chi se ne fregava avevamo fatto sesso per un pomeriggio intero finché dal nulla era apparso quell'uomo una caricatura di me invecchiata di 20 anni aveva estratto una pistola dalla tasca del giubbotto e aveva sparato una due tre volte accanto a me un colpo dopo l'altro il corpo di lisa sussultava sul materasso il suo sangue inzuppava le lenzuola il suo braccio flaccido percuoteva il mio sesso quei ricordi sono indelebili da allora non mi hanno mai abbandonato questa volta invece toccò a me estrarre la pistola e puntarla contro lisa avevo sempre saputo quale orrore avrebbe concluso la sua vita io il carnefice lei la vittima un rituale che si ripeteva da chissà quanto tempo torna indietro con me lenti mai non posso la risposta era prevedibile perché lisa amava l'ordine dovevo sparare ma era davvero questo che volevo lei sorrideva serena lui gridava spaventato e io capì che non potevo farlo perché sono sempre stato un debole e ho sempre amato lisa puttana eva esclamai gettai via la pistola e iniziai a piangere come un bambino la storia può essere cambiata da allora è trascorso un anno la bestia pian piano conquista spazio nel cielo e annuncia la mia colpa mia moglie sa che il suo futuro finisce qui ma io non tornerò indietro senza di lei nonostante mi abbia chiesto più volte di ristabilire l'ordine degli eventi ho deciso che continuerò a ingannare il tempo d'altronde sono sempre stato un fannullone disordinato e poi le alternative che mi aspettano nel futuro non sono esaltanti nel migliore dei casi sarei accusato di avere aggravato il paradosso temporale di questo universo mentre nel peggiore sarei condannato per omicidio ho perdonato il peccato della prima lisa che per capriccio ha creato il paradosso e so che lei avrebbe perdonato il gesto del mio alter ego che l'ha uccisa la verità è che il perdono può placare i tormenti dell'anima ma non i disagi di questo imprevisto menage non so quanto potrà durare la relazione con il me stesso più giovane e con lisa ma se il presente è incerto so che non ho più un futuro e che l'unica mia possibilità ancora una volta è nel passato un'altra volta è nel passato